Vogliamo in qualche modo invadere la città di musica, quest'anno lo facciamo un po' di più, ogni anno cerchiamo di farlo di più. Il cantiere in corso, i montapalchi acrobati, gli avvitatori e il via vai della mole sono il pre dell'invasione musicale di Ancona, che parte giovedì 5 settembre alle 19 e termina domenica 8 settembre. Nel mezzo concerti, molti concerti, mostre, musei aperti, sfilate. È la coincidenza di due appuntamenti molto attesi, la Mia Generazione Festival, diretto da Mauro Ermanno Giovanardi, che si apre alla mole vanvitelliana, quindi sabato 7 settembre, la Notte Bianca nel cuore del capoluogo, a unire due eventi il concerto Clou dei Subsonica, sabato ore 21 al Porto Antico, in scena ai 20 anni dall'album simbolo Microchip Emozionale, una prova di maturità per i grandi eventi nello scalo dorico. A precederlo, appunto, all'apertura del festival con la mostra di Guido Harari, quindi il concerto dei Mau Mau e i DJ set di due musicisti inglesi simbolo, Dave Roundtree dei Blair e Rick Witter degli Shed Seven. Si proseguirà venerdì 6 settembre con i Belgi Deus, corte della mole, nel mentre, alle 19, incontri e dibattiti, Colapesce, Lucio Corsi, Maria Antonietta, Emiliano Colasanti, Carlo Pastore, inoltre il DJ set di Andy Smith dei Porti Shed, quindi la chiusura sabato dal Porto Antico al centro. Ci saranno delle navette di Conerobus che porteranno alcune sino al Porto Antico, altre sino al centro, visto che in centro c'è la Notte Bianca, e poi naturalmente ci auguriamo che dal Porto Antico ci sia anche un flusso verso la città al termine del concerto, perché c'è un grande DJ set, sempre del festival della mia generazione, in piazza del Blaviscito, con Roy Paci e all'Irosha Bisceglie dei Casino Royale, e questo sicuramente è un altro valore aggiunto alla Notte Bianca. E con Conerobus che cosa vuole diventare? Noi ci mettiamo al servizio di tutto il territorio, al servizio del pubblico che vuole venire, ma anche al servizio degli organizzatori, delle persone che vogliono fare cose che riguardano il settore culturale, il settore musicale, il settore dello spettacolo, perché naturalmente questo è quello che deve fare un capoluogo, non chiudersi e guardarsi allo specchio, ma mettersi al servizio di tutto il territorio con quello che sa fare meglio. La conclusione della mia generazione festival a domenica 8 settembre con Massimo Zamboni, Edda Riccardo Sinigaglia e il concerto della Cross.